Questa produzione nasce che stavo parlando con Anna e quindi mi chiese di scrivere per lei una commedia teatrale, ma io le dissi che io commedia non scrivo, scrivo di più thriller, gialli e horror, e allora le dissi scrivila tu la commedia. Così scrisse la commedia, quando ho letto veramente quello che aveva scritto, aveva scritto una bellissima commedia, non solo da un punto di vista teatrale, ma anche da un punto di vista di sceneggiatura cinematografica, di cui da questa sceneggiatura si potrebbe trarre anche un film. Ho visto lavorare Anna Teresi anche sul set teatrale, è veramente stata un'esperienza bellissima che ho avuto, perché ho visto una prontezza e una professionalità abbastanza elevata. Il debutto quando? Il 13 settembre al teatro Arena Zappalà alle ore 21.30. Ci racconti di più su questo testo? Beh, di più vi posso raccontare che è una commedia brillante, divertente e che comunque fa riflettere ai giorni d'ossi, perché noi abbiamo la partecipazione dei ragazzi diversamente abili, che anche loro faranno uno spettacolo in bellezza, in chiusura e in bellezza per quanto riguarda, e per la prima volta succede al teatro Vito Arena Zappalà. Io devo ringraziare la Magnum 5B che mi ha dato questa opportunità, ringrazio tutti i miei attori che sono tutti bravissimi, dal primo fino all'ultimo. Cosa dirvi? Non vi resta che venire a vedere la nostra commedia perché diamo un sorriso a questi ragazzi che ne hanno bisogno. E anche per noi un sorriso fa tanto. Perché venire a vedere questo spettacolo? Allora, innanzitutto perché è una commedia quindi sarà sicuramente divertente, diciamo che facciamo distogliere un attimino lo sguardo da quelle che sono state le problematiche che ci hanno afflitto ultimamente. Quindi cerchiamo di dare un sorriso un po' a tutti quanti, ecco, trascorrere una serata in maniera diversa l'insegna del divertimento e della serenità. Ma quello che dà ancora più valore è appunto perché lo spettacolo è a scopo benefico. Quindi diamo un messaggio molto importante e cerchiamo di far riflettere un attimino anche le persone verso chi magari spesso è un pochettino anche emarginato, purtroppo al giorno d'oggi. O gratti o ti sposi, o gratti in gergo siciliano vuol dire, cioè grattare vuol dire rubare, e diciamo a Palermo e in Sicilia è molto usato questo, in questo diciamo in gergo si capisce. E quindi o gratti o ti sposi. Se non si gratta si sposa, nel senso che i soldi arrivano o tramite il colpo, il grande colpo, oppure tramite uno sposalizio fortunato. Quindi questo sarà, non voglio svelare niente, però sarà poi una sorpresa che nella commedia ovviamente poi sarà tutto, la commedia poi sarà incentrata su questo diciamo tema.